Alle 10 iniziavo, a mezzanotte mettevo due lenti e ti segnalo anche Albertino il mio primo, la perdita della verginità, io ho perso la verginità morale in discoteca quando a un certo punto ho deciso, dico io i lenti non li metto più, non li metto più, arriva un signore, un signore della provincia ricca, arricchita, lecchese e dice c'è a mezzo il lento, no no guardi mi spiace ma i lenti non li mettiamo. Sarecchi sabato scorso che erano i lenti, adesso come mai non metti i lenti, no no guardi abbiamo cambiato, metti i lenti, dai metti i lenti, dai metti i lenti mi dà 50.000 lire, mi dà 50.000 lire e io ho messo il lento e ho messo il lento e ancora me lo ricordo, lì ho perso la verginità, non è bello ma io ne prendevo 100 caro Albertino e quindi era il 50% del mio conflitto. Che fanno la differenza. Fanno la differenza e come se fanno la differenza, io andavo all'orsa maggiore con la Fiat 126 di mia madre.